Allora, io vorrei dare un contributo mettendo il mio intervento su due piani, uno su un dato contingente che è quello che stiamo vivendo in questi giorni e l'altro su un piano più squisitamente politico e quindi facendo anche delle proposte. Intanto io sono d'accordo con il sindaco di Sansevino Lucano quando dice che sarà la forza dell'agente a spazzar via questa centrale, perché intanto le istituzioni che si sono schierate a difesa, a tutela delle sacrosante motivazioni dell'agente sono con l'agente, quindi questo è un dato di fatto assoluto e inequivocabile. E poi rappresentano appunto un'istanza molto forte che è viva nella popolazione locale, che è molto molto viva nella popolazione locale, che che ne dica l'Enel e che che ne dicano altri amministratori che probabilmente non hanno il polso della situazione di quello che accade in questa valle. Ecco perché concordo sul fatto che sarà la forza dell'agente, perché se è vero che siamo riusciti, come dire, quantomeno a lanciare questo dato al di là dei quattro comuni della valle e a far raccontare queste cose in Calabria, in Basilicata e ci auguriamo più presto anche sul piano nazionale, anche se sporadicamente alcune testate giornalistiche, anche Report qualche anno fa, ha dato voce a queste istanze. Ecco se siamo riusciti a portare fuori questa vicenda è perché la gente ha voluto a sospindono i sindaci verso questa direzione. E però c'è un dato che è quello anche piuttosto negativo e piuttosto doloroso di questa faccenda. Da molti giorni, a partire dal 3 novembre, da quando abbiamo tenuto quella straordinaria mobilitazione e che è venuta fuori dall'appello dei primi cittadini, dei comitati e lì abbiamo veramente dimostrato uno scatto di reni che nemmeno Enel si aspettava, da più giorni le istituzioni che stanno mantenendo questa assemblea permanente al parco sono delle istituzioni, come dicevo io, ieri ferite da un comportamento contraddittorio che sta tenendo l'ende pace. E sono istituzioni, sono istituzioni che prima di questo momento, prima di questa, questo, questo, come posso dire, accendere questo, questo, questo esasperarsi ecco della condizione che stiamo vivendo, avevano come dire anche in tessuto sul piano relazionale, sul piano delle opportunità di sviluppo, ecco perché il dato è doloroso, anche delle condizioni virtuose in questo parco, sul piano turistico, sul piano della tutela della biodiversità, dei prodotti tipici, su quello che faticosamente le amministrazioni locali stanno mettendo in piedi, anche con il contributo delle agenzie di sviluppo, anche con il contributo del parco. E però, ecco, vedersi, come dire, scalfite, vedersi, ecco, contraddette, anzi, addirittura minacciate, queste condizioni di sviluppo che stiamo mettendo in piedi, proprio dagli organi politici che dovrebbero stare vicini a queste istanze, a queste popolazioni, a queste politiche che stiamo mettendo in gambo, è la cosa più dolorosa di questa faccenda. Poi c'è il dato, diciamo, più politico, il dato più politico l'hanno già espresso, diciamo, chi mi ha preceduto, perché questa centrale è incompatibile col parco, lo sappiamo a memoria oramai, non devo ripetervelo io, però ci sono alcuni elementi che ancora voglio rimarcare e che, appunto, rimarcano, vedete, non siamo soli in questa battaglia, non è vero quello che dicono, perché l'appello che ha fatto il sindaco di Vigiolello, il sindaco di Rotonda, gli altri sindaci a gettare, come dire, uno squarcio di verità anche su questa vicenda, ad essere vicini a noi, in questi ultimi momenti, sta raccogliendo una grandissima e spassosa, diciamo, adesione, proprio perché i sindaci si sono già espressi in merito attraverso l'autorità della comunità del parco e continuano a riparcare la stessa cosa, evidenziando una forte contraddizione tra quelle che sono le politiche istituzionali del parco e, appunto, quello che vuole mettere in gambo Enel su questa battaglia. Questo è il dato politico forte che vogliamo consegnare anche al nuovo Presidente della Regione Basilicata, perché se è vero che, appunto, le politiche devono essere indirizzate come ci hanno insegnato e come vogliamo attuare anche nelle nostre esperienze amministrative, l'indirizzo lo dicono i territori, lo invocano i territori, lo stanno puntualizzando, sottolineando i territori e io sono contento di questo fatto che capisco che ci sono dei sacrifici, capisco che anche noi, noi sindaci, un po' stiamo in comune, un po' veniamo qua, abbiamo delle difficoltà anche oggettive in queste due settimane, ecco, capisco che ci sono dei sacrifici, però il dato positivo di tutto ciò è che appunto noi stiamo dettando l'agenda di questa valle in queste settimane e l'agenda è quella vecchia, quella che abbiamo costruito insieme, chi ha istituito il parco e forse glielo dobbiamo anche ricordare attraverso questa mobilitazione. E l'abbiamo detto anche al Presidente del parco di stare vicino a questa gente, ai produttori locali, a chi si occupa di turismo, a chi tenacemente ha costruito con sacrifici, con lavoro, denari, tutto quello che adesso vede svanito da questa nube minacciosa, l'abbiamo detto di stare vicino a queste popolazioni, a queste istituzioni che credono fermamente nel parco, questo è il dato politico, cioè Vigianello, Rotonda, San Zeverino Lucano, Terranova di Polliro, Caldera, Latronico, Morano Calabro, che si scusa per non essere venuto ma è con noi sin dal primo minuto, ecco queste istituzioni che sono anche le comunità più corpose del parco, diciamocelo francamente perché questa presa in giro che alcuni comuni del parco vogliono la centrale, sono comuni che non credono nemmeno nel parco, probabilmente se sponsorizzano a spada tratta un investimento industriale, allora e questo appello lo lancio di nuovo attraverso le telecamere al Presidente del parco di essere vicino a queste istituzioni che stanno fortemente portando il lustro a questo parco attraverso le attività che mettono in tutti i giorni, chi vive su questo territorio attraverso le grandi opportunità che stanno dando anche a tanti giovani che stanno credendo nelle politiche di ritorno innanzitutto, di ritorno, di ritorno qui sul territorio e ovviamente di stare vicino a queste popolazioni e a questi sindaci che credono nel parco. Perché l'altro dato politico, e questo è l'aspetto più nauseante della faccenda, è che Enel, a cui non sta a cuore evidentemente, andando non sta a cuore la legalità come abbiamo ovviamente sentito, anche gli aspetti sanitari perché altrimenti andrebbero a sendenza quanto prima pur di continuare i lavori, ma Enel a cui non sta a cuore la valle sta tenendo divisi i sindaci, questo è il dato inquietante, sta tenendo divise anzitutto le comunità, perché questo fatto che si tengono dei tavoli di concertazione, tra l'altro mi hanno insegnato a scuola che i tavoli di concertazione si tengono con i sindacati, con le comunità, ma prima che parta un progetto, qui invece è una contraddizione in termine, prima si può partire il progetto e poi per mettere pezze, toppe, si convocano come dire i sindaci consenzienti o si convocano i sindacati, come dire, prospettando e sanando situazioni insanabili come abbiamo visto, ma questo fatto di tenere divise le comunità e sono le cose a cui piacciono di più i giornalisti perché una valle divisa, una valle divisa, che cosa vuol dire? A chi giova, cui protest tutto ciò? Probabilmente giova alla politica perché, come dire, non si dà spazio e possibilità di crescita, si dà spazio, anzi alla periferia di essere ancora più periferia, ma soprattutto, come dire, si può continuare a tenere vanghi, tavoli di discussione lontani dai cittadini, questo è la cosa più triste della faccenda. Non vi devo ripetere che le centrali a biomasse devono essere di piccola dimensione, lo sanno tutti, tra l'altro le biomasse non sono nemmeno più tra le fonti rinnovabili, insomma, dai libri di geografia, ma di recente, perché sono un insegnante, lo sapete, sono anche state scartate, cioè quando si fanno le unità didattiche si parla di energie, diciamo, delle rinnovabili, non ci sono più le biomasse perché sono accorti appunto che sono anzitutto anticonomiche e poi ovviamente per gli effetti negativi che avremo nella valle non riescono neppure più a inserirle nei programmi didattici. Allora, dicevo, le centrali a biomasse sono di piccola dimensione, questa è la più grande, diciamo, nel più grande parco d'Europa, definita dal legale della regione Calabria centralina, ecco, questo è il dato. Io scusate se insisto su queste cose perché voglio bilanciarle su due piani, dall'altro ci siamo noi con le nostre ragioni che ne abbiamo da vendere, i giornalisti lo sanno e lo racconteranno degnamente, lo sono convinto. Dall'altro ci sono, come dire, dei posizionamenti precostituiti che platerano da dieci anni sempre di soliti concetti, prospettive occupazionali, prima si parlava di mille unità di lavoro, da 5.000, vabbè ero giovane ancora, non c'era, 5.000, 1.000, adesso sono arrivati a 100, ma 100 già lo dicono in modo tendennante perché si sono accorti, tra l'altro il segretario regionale della CGL che a Roma, come dire, ha avuto anche un atteggiamento ostile nei confronti delle comunità che si battono contro la riconversione, qui a Rotonda mi pare che abbia detto, ma dobbiamo vedere se ci sono posti di lavoro, ancora non abbiamo il dato completo, ancora. Ha detto zero, posti di lavoro, non lui, l'operario della CGL. Appunto, va bene, mi comporta questa posizione e non avevo dubbi in merito, ma ancora, non sono convenienti queste centrali a Pio Massa, sono tutte centrali in chiusura in Italia, di altre in Italia, dato che mi porta il sindaco di Rotonda. Ancora, ancora, prospettivo occupazionale, ci sono e la palle sono forte, lo sappiamo tutti e ci sono qui tanti operatori che appunto stanno già lavorando da tanti anni, ma noi abbiamo lanciato anche delle domande specifiche a Enel, a cui non ha mai dato risposta, o se ne ha date sono delle domande così generiche, delle risposte così generiche che appunto riprendono un dato precostituito come dicevamo prima. Qualcuno ha fatto riferimento alle ceneri, all'amianto, al fatto perché Enel tema la sentenza, al fatto che i dati sono autoreferenziali, guardate, i dati che dà Enel ai comuni sono i dati che, come dire, controlla Enel stessa. Avete capito qual è il dato scongertante di tutto ciò? Quindi, quale fiducia? Quale fiducia da una società che appunto sbandiera in tutta Italia, etica e industriale, poi su questa valle, come dire, già sul piano progettuale si è perse mille rivoli di contraddizioni, adesso sul piano pratico non dà nessun messaggio di fiducia alle popolazioni locali. E poi perché si tengono i tavoli? Scusate, questo è il dato che riprende anche il fatto perché siamo qui, siamo qui, sappiamo che il parco è recuperato ed è un indirizzo del Ministero dell'Ambiente. Ecco perché l'Ende Parco in autonomia tiene i tavoli di concertazione al Ministero dello Sviluppo Economico e addirittura al Ministero dell'Ambiente non sanno nulla di quello che accade in questa valle, nemmeno di questa mobilitazione. e perché vengono fatte, vengono fatte, ecco quando parlo parlavo di top e vado alla conclusione e di pezze che vengono messe dopo, contrattazioni individuali con i sindaci, come se fosse veramente un aspetto, anzi questo è l'aspetto più volgare della vicenda, per estorcere un sì, per entrare nella rete dei sindaci consenzienti, Enel mantiene questo tipo di relazioni. Allora tutte queste anomalie che noi abbiamo evidenziato vogliamo che vengano amplificate sul piano mediale, primo punto. Secondo punto, queste anomalie che abbiamo evidenziate, vogliamo che siano prese note anche al Consiglio Direttivo, noi avevamo invitato quest'oggi il Consiglio Direttivo, ma non è presente, avevamo invitato il Presidente del Parco, ma non è presente, il Presidente della Comunità del Parco, perché appunto è l'organo che poi rappresenta anche gli stessi sindaci e non è presente. Ecco, rilanciamo queste anomalie all'oro, rilanciamo queste anomalie, queste istanze della popolazione all'oro e naturalmente anche alla nuova rappresentanza amministrativa della regione basilica. Perché adesso bisogna aprire a più presto, io lo dico appunto l'istituzione, poi naturalmente ci saranno altre forme di resistenza, di protesta nella situazione. Voglio che si apra più presto un tavolo politico su questa valle. Prima ancora del tavolo politico che si deve aprire su eventualmente se questo progetto è valido o no, ma sappiamo che non è valido, prima ancora io chiedo un tavolo su quello che accade sul disagio sociale che stiamo vivendo in queste ore, sul fatto che migliaia di cittadini non vogliono questa centrale e vivono con apprezzione quotidianamente questo fatto. Avete sentito anche il dato di Banzi, eccetera, che appunto adesso questo effetto mobilitazione si sta spandendo grazie a Dio e si sta creando anche una rete tra i comitati e le istituzioni. Ecco, vogliamo rilanciare queste anomalie, vogliamo risposte, risposte serie e concrete. Naturalmente è informata anche la Chiesa di tutto ciò, è informato il Vescovo di Torsi Labonero di tutto ciò, mi auguro che i colleghi sindaci della Carabello che sono con noi possono fare altrettanto col Vescovo di riferimento insomma della zona di Mormanno, Laino, Pellusia, Cassano, perché appunto venga affrontato questo problema, questo problema sul piano sociale anzitutto, sul piano sociale. Sono informate anche altre istituzioni, sono informate anche personaggi noti che lottano diciamo da anni su varie pertenze in Italia, vogliamo al più presto informare il Ministro dell'Ambiente di quello che accade qui nel Parco e nella Valle del Mercure. Ecco, concludo con una nota, il fatto che Enel sa di perdere è acclarato, è acclarato e lo dimostra anche il nervosismo che c'è in queste ore. La mobilitazione che abbiamo fatto è bellissima proprio da questo punto di vista perché ha dato uno scatto di regni alla lotta, quando tutti credevano che ci fosse rassegnazione nella popolazione, credevano che questa cosa fosse sepolta anche dal tavolo di compensazioni affinché si allargasse il più possibile ad altri sindaci per zittire definitivamente tutto. Ma lo scatto di regni che ci ha stato ha dato in bursa ad un'altra cosa, da di bursa alle reazioni sconsiderate che stiamo avendo in questi giorni. Io sono stato oggetto e vittima di un vile attacco da parte di un dirigente dell'Enel all'uscita del TAR solo perché voleva, come dire, spiegarmi le ragioni perché si trovassero là. Io ho detto, guardate le ragioni le ha già esposte l'avvocato dinanzi ai giudici, non devo dirti null'altro e sono stato, come dire, aggredito verbalmente e anche spindonato. Quindi questo è quello che accade, questa è la cosa inquietante che accade nella Valle del Mercure. Un'azienda che tiene divise le comunità è una politica che non è in grado di dare risposte a questa gente. Quindi noi dobbiamo unire le due cose, dobbiamo amplificare il più possibile questo fatto fino a che ci sia un interesse nazionale su quello che si accade e si diano risposte anche politiche a questa gente.